Due ore di consiglio comunale ieri sera, incentrate alla riflessione sull'ambiente, purtroppo a Rocco che ha interessato la Nappi Sud, che conferma con il suo ritolare di voler trasferirsi tra Buccino ed Oliveto Citra, lasciando battipaglia. La sindaca Cecilia Francese nel suo intervento, così come Gerardo Motto, Adacaso, Pinobove e Valerio Longo, concordano tutti sulla necessità di non dover colpevolizzare i privati. Sono meritori di assicurare posti di lavoro, lavorano i rifiuti, non li producono. Poi annuncia che con l'Università ed i Rotari arriveranno delle centraline per il controllo dell'ambiente e delle polveri prodotte. Alcuni consiglieri poi muovono colpe politiche al governatore della Campania Vincenzo De Luca, che applica una politica regionale fallimentare sul piano dei rifiuti. Insomma, una giornata di riflessione per cercare di scongiurare altri roghi e soprattutto verificare cosa si stia facendo per tutte le aziende che lavorano i rifiuti.